L'arte della cucina è una tradizione nobile, fatta di segreti e passione. Per noi di Ristorazione Ottavian, far da mangiare è da generazioni una vocazione a cui dedichiamo tutta la nostra energia, attenzione e amore. La qualità delle materie prime, la sicurezza, l'accuratezza del servizio e la puntualità sono i cardini del nostro modo di pensare e vivere la ristorazione collettiva. Ogni giorno in Ristorazione Ottavian prepariamo oltre 20.000 pasti ed effettuiamo più di 350 consegne. La nostra flotta di automezzi, oltre 60, distribuisce pasti caldi, buoni e sicuri, come sono stati pensati e preparati. Nei nostri reparti, accuratamente studiati fin nel più piccolo dettaglio, operano oltre 400 dipendenti. Dall'ufficio commerciale al magazzino, dalla macelleria alla pasticceria, tutto è inserito in una organizzazione di altissima qualità. Le materie prime e i piatti finiti seguono un percorso univoco, annullando il rischio di contaminazione. Tutta la filiera è rintracciabile secondo protocolli interni che superano gli standard di legge. Le numerose certificazioni di qualità ottenute sono garanzia dell'efficienza e qualità del nostro sistema lavoro. Nei nostri magazzini arrivano le materie prime selezionate dall'ufficio acquisti. Qui vengono controllate prima dell'accettazione e distribuite e stoccate nei reparti specifici di categoria, secondo criteri di precedenza e norme di sicurezza. Il nostro panificio interno prepara tutti i giorni, con una ricetta esclusiva, pane fresco e fragrante, pizze e focacce golose. Anche la pasticceria è organizzata internamente. Torte, pasta frolla e croissant vengono preparati freschissimi tutti i giorni. In ristorazione Ottavian abbiamo deciso di utilizzare esclusivamente frutta e verdure fresche. Il nostro reparto di lavaggio e mondatura utilizza sia macchine automatiche che procedure manuali. Tutto viene sempre lavato in giornata e inserito nei menu. Tutte le carni dei nostri piatti provengono da filiera nazionale e sono lavorate dalla nostra macelleria interna. Lavoriamo e tagliamo tutti i pezzi necessari alla produzione, garantendo la bontà del prodotto e la sicurezza e tutela del consumatore finale. Il nostro punto di forza è cucinare bene e farlo per molte persone. Garantiamo qualità, bontà ed eccellenza in ogni singolo piatto che esce dalle nostre cucine. Utilizziamo attrezzature all'avanguardia, ma è soprattutto la competenza dei nostri chef e delle loro brigade a far sì che i piatti siano sempre perfetti. I nostri menu sono tradizionalmente concepiti con semplicità e buon gusto. Mettiamo sempre particolare attenzione all'utilizzo di prodotti freschi e legati alla stagione. Abbiamo realizzato un reparto di cucina dietetica per tutti i consumatori con esigenze particolari. Ogni piatto viene preparato con i dovuti accorgimenti e confezionato singolarmente. In Ristorazione Ottavian confezioniamo anche pasti in monoporzione. Ogni piatto viene termosigillato in modo rapido e igienico per preservarne intatti i sapori. Garantiamo la sicurezza di tutti i nostri piatti. Sempre. Per questo effettuiamo controlli e analisi di laboratorio giornalieri e periodici, sia internamente che presso enti terzi. I nostri ristoranti self-service a San Vendemiano, a San Giacomo di Viglia e a Vazzola sono il miglior esempio di come in Ristorazione Ottavian coniughiamo la capacità di servire migliaia di pasti con la bontà dei piatti, la qualità del servizio, la bellezza degli ambienti, il relax della pausa pranzo. Nelle mense scolastiche offriamo pietanze pluriporzione e monoporzione, con particolare attenzione per i bambini con allergie e diete particolari. Nelle strutture sanitarie, nelle case di riposo e strutture specialistiche per disabili, garantiamo la massima attenzione e qualità, grazie ai nostri controlli interni, severi e rigorosi. Consegniamo pasti pronti o gestiamo direttamente le cucine interne delle più importanti aziende venete, con piatti sempre accurati e ricchi di ingredienti freschi. Per noi di Ristorazione Ottavian, la buona cucina è una vocazione di famiglia, una tradizione che diventa sinonimo di sicurezza, servizio e qualità nella ristorazione.